Il medico mi ha detto che il mio zio stava riposando serenamente, doveva continuare a fare la terapia che stava facendo almeno per un'altra decina di giorni. Non dico i dieci giusti della Bibbia, ma se una persona in quei cinque giorni si fosse alzata e avesse detto, ma cosa stiamo facendo?